Palazzo Sirena, Francavilla, decreto agricoltura, oggi un incontro promosso da Fratelli d'Italia per dire sostanzialmente cosa? Nicola Campitelli. È un appuntamento importante qui in Abruzzo con esponenti nazionali di Fratelli d'Italia per dire innanzitutto da che parte sta Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia sta dalla parte dei lavoratori, dalla parte delle imprese, dalla parte ovviamente dell'agricoltura e degli agricoltori. Non è vero che siamo tutti uguali perché noi non siamo per i cibi sintetici, non siamo per le carni artificiali, siamo invece per difendere la nostra identità, la nostra storia, il made in Italy, difendere i nostri prodotti tipici perché significa difendere i nostri cittadini, gli abruzzesi. Questo lo diciamo oggi anche per presentare il DL Lollobrigida, per parlare anche di altri temi, così come gli interventi che la Regione Abruzzo ha fatto rispetto a un tema molto importante, a una catastrofe come quella della Peronospora, rispetto a quale noi abbiamo cercato di fare veramente più di quello che era immaginabile all'inizio. Tenuto conto che la Regione Abruzzo complessivamente ha stanziato quasi 18 milioni di euro. Su questo ovviamente ci sono ancora dei tempi da attendere, ma crediamo che per settembre parte di questi fondi possono arrivare già gli agricoltori. Quindi le polemiche dei mesi scorsi sono acqua passata? Ma no, le polemiche alla fine non sono solo polemiche perché è stato anche un grido d'allarme da parte degli agricoltori che giustamente da una parte hanno visto la Regione Abruzzo stanziare, prevedere nella legge di stabilità decine di milioni di euro, però poi in sostanza questi fondi non arrivavano. Questi fondi purtroppo ci sono stati dei tempi burocratici da rispettare. Oggi parte di questi fondi li abbiamo destinati alla GEA, che significa accelerare i tempi, dimezzare la procedura e far sì che questi fondi possano arrivare il prima possibile nelle tasche degli agricoltori.